Per fingere la paura occorre intelligenza politica, determinazione e un grande cuore europeo. La mia reazione è stata positiva perché per la prima volta dopo la Brexit abbiamo avuto un Presidente della Commissione europea che è venuta nel Parlamento a dirci io voglio fare in 12 mesi, nei prossimi 12 mesi, che saranno i mesi cruciali per i cittadini europei alcune cose che risollevino le condizioni di vita, di lavoro, di economia dell'Europa. Il messaggio molto importante che ci sta dando è che qualsiasi fare, se siamo membri dell'Unione europea o non, se siamo parte dell'area Schengen o non, questo non è di interesse per i terroristi e per i crimini organizzati. Ci sono attraverso le fronte. Quindi qualsiasi fare, qualsiasi fare, qualsiasi sistemi legali e polizistiche, questo è un problema comunale e un problema comunale che dovremmo andare avanti. Non c'è tanto da una conclusione che da capire l'état dei lieuti, come abbiamo potuto arrivare a questo scandale. La situazione generale in Turquia, anche queste misure, bisogna entrare in un dialogo per rispondere i problemi di cui abbiamo rispondimento, ma anche per cui abbiamo buona collaborazione. Forse i cittadini non ricordano che i nazionalismi dello secolo scorso portarono le tragedie, i totalitarismi, gli autoritarismi, i fascismi, i nazismi, i comunismi, le morti, il sangue, la miseria che hanno portato, attenzione, a imboccare quella strada perché l'Europa invece ci ha dato la pace.